Sai perché sei qui oggi? Sì, per farmi il vaccino. Mio figlio aveva paura perché ascoltava notizie fuorvianti. L'idea di farlo a scuola l'ha tranquillizzato molto. Tu la vuoi un palloncino? Hai paura di fare questo vaccino? No. Ah, sei proprio coraggioso allora! Ero un po' combattuta, però convinta, io ho convinto anche loro. Inoculare qui il vaccino ha un senso, perché la scuola in questo momento ha un valore simbolico altissimo. E' finito. E' visto che non è nulla? Abbiamo avuto una partecipazione massiccia. Abbiamo circa 300 diciamo prenotazioni. Le scuole fanno i conti con l'aumento dei contagi. Quello che abbiamo messo in campo sicuramente è finalizzato alla possibilità di avere la scuola in presenza. La seconda dose vi chiamiamo noi, sicuramente la faremo nella scuola. Ho avuto più problemi a convincere le madri a vaccinarsi che con i bambini. Ho convinto mamma per farmi fare il vaccino. Così non rischio di tornare a casa con il Covid. Questo è il braccialetto, mi sono vaccinato. La pergamena per il tuo coraggio. Il clima è quello di serenità, di allegria. Devo dire, noi siamo ben acconti, ma anche i bambini, perché si trovano in un luogo al loro familiare. Arriva qualche bambino che ci chiede il Green Pass, quindi come premio. Sei felice di venirti a vaccinare? Non posso tenerlo più chiuso in una cameretta ad aspettare che questo Covid vada via. Sei contenta di esserti vaccinata? Troppo, troppo contenta. Ho fatto una cosa importante per la società. Ho fatto una cosa.